Si chiama Vincenzo Carbone, anzi se volete far causa prendete nota del nome. Lo trovate ovunque, anche su Twitter, su Facebook, però ce l'abbiamo solo noi in esclusiva. Allora, Sanremo è finito e meno male, ok? Le polemiche non ci sono placate, soprattutto per gli interventi di Adriano Celentano che se l'è presa un po' con tutti, anche l'altra volta a servizio pubblico. Da Santoro, sì, non si tira mai indietro. Cioè, ormai è diventato il predicatore matto. Esatto, e noi abbiamo la password del suo Facebook. Ecco, sarà contenta la C, immagino, il Vaticano, pure l'Avvenire, tutti quanti. Dai, apri un po'. Vediamo un po', eh. Allora, com'è la password qui? La password è... Dai, Celentano, com'è? Appasso la chiesa. Eh? Appasso la chiesa. Appasso la chiesa. Sicuro? Sì. Ah, guarda, è entrato, è entrato. Ah, ecco, guarda, guarda. Adriano Celentano è ora iscritto a Facebook. Adriano Celentano ha cambiato il suo status in lunga pausa. Ma l'Avvenire piace questo elemento. Oh, cioè, Avvenire ha scritto sulla wall di Adriano Celentano. Adriano ti saluta tanto il nostro amico comune. Adriano ha commentato chi? Avvenire ha commentato sto cazzo. No! Chi di supercazzo la ferisce, di supercazzo la perisce. Grande l'Avvenire. È stato stoccazzato. È stato stoccazzato. No. A Benedetto sedicesimo. Lorenza Lei, Massimo Giletti, Bruno Vespa, Luca e Paolo piace questo elemento. Ma non ci credo. L'ospedale ortopedico di Milano ha inviato un messaggio ad Adriano Celentano, signor molleggiato, la prossima volta che va contro i nostri consigli e fa le mosse di danza sul palco, riportando l'usazione congenita dell'anca, fratture scomposte e paresi degli arti, noi non la curiamo più. Ormai ha un'età. A Claudia Mori e Mick Jagger piace questo elemento, poverino, non si ferma più. O cioè, Gianni Morandi ha invitato Celentano all'evento Liscio con Raul Casadei a Rococò di Reggio Emilia. Adriano Celentano, Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Milva e Mal dei Primitives parteciperanno all'evento. Tutti giovanotti. O cioè, cos'è questo? Pupo ha pubblicato un link alla notizia. Si suicida lo stilista di Celentano. Le ultime parole, dopo cinquant'anni non potevo più vedere quei pantaloni. A Claudia Mori, Dolce Gabbana, Corona e Rosita Celentano piace questo elemento. Adriano Celentano ha aggiunto dizionario illustrato per ragazzi ai suoi libri preferiti. Forse è caso di uscire. Via, via, che questo è potente e ci fa chiudere tutti quanti. Via, 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 via. Esce, esce, esce. Ocio, ocio, ocio. Ok. M2O. Un mondo allo stato puro.